ho appena ritirato il pettorale della maratona di berlino dove mi hanno assegnato una griglia assolutamente importante perché partirò abbastanza davanti subito dietro i top runner però purtroppo ho deciso di non gareggiare perché il mio problema al tensore della fascia lata è persistente venerdì ho corso una piccola shake out run e mi sono accorto che non sono riuscito a portarla termine in maniera soddisfacente quindi sarebbe secondo me assolutamente vantaggioso aspettare qualche giorno prima di riprendere a correre in maniera importante non vorrei star fermo per tutta la stagione e questa comunque non è un addio alle maratone ma semplicemente una rivedercine il test che consiglio al podista amatore è abbastanza semplice ed è assolutamente chiaro dopo la corsa cercate di non zoppicare se non riuscite a riprendervi rapidamente dal vostro infortunio è fondamentale farsi vedere da qualcuno e magari fare un'analisi che vi consente poi di capire quale sia la ragione specifica dell'infortunio stesso la realizzazione della percezione dell'infortunio non è un concetto immediato passano davvero diversi giorni ma anche perché no qualche settimana per capire se effettivamente possiamo riuscire a correre nei giorni passati ho avuto davvero tanti pensieri ho pensato che inizialmente potessi fare un po di cycling magari 50 chilometri al giorno per poi riprendere correndo in maniera molto semplice il test fatto la domenica successiva alla maratona mezza maratona di copenhagen mi ha portato a dire che forse non ce la potevo fare ho riprovato venerdì all'evento oca correndo solamente 7 chilometri e dopo 7 chilometri non volevo fare altro che smettere quindi effettivamente ho pensato che non fosse opportuno gareggiare domenica purtroppo ho preso questa decisione a malincuore ma secondo me è forse la scelta migliore per poter correre nelle prossime settimane speriamo di gareggiare in sicilia ma se non dovessi farcela almeno a chicago ovviamente la stagione il personal best è compromesso ma soprattutto cercherò di fare una maratona prima della fine dell'anno e sicuramente questa maratona sarà a valencia è ovvio che dal punto di vista razionale essere a berlino me l'hanno detto anche delle persone che mi hanno visto qui all'expo è stranissimo non poter gareggiare soprattutto sapendo che due settimane fa si stava davvero molto bene e si pensava di poter ottenere un tempo abbastanza buono per la mia età però è chiaro che bisogna ascoltare assolutamente il corpo questa comunque non è una dichiarazione di sconfitta perché nei prossimi giorni cercherò di tornare a correre e adesso però mi devo far curare dal fisioterapista il mio infortunio a copenhagen si è sviluppato in maniera davvero molto suba ho corso 6 chilometri senza accusare nessun problema poi un fastidio all'anca che poi si è rivelato il tensore della fascia lata che è infiammato in maniera molto significativa almeno il giorno dopo della mezza maratona ho però avuto la possibilità di fare molto stretching e soprattutto di farmi vedere da un ottimo fisioterapista che mi ha suggerito un po di riposo comunque di fare cross training questa cosa mi ha permesso inizialmente di avere una speranza che ovviamente ravana di correre prima alla mezza maratona di udine e poi qui a berlino ovviamente facendo il test ho capito che non c'erano le possibilità e ovviamente ho deciso di non partecipare domani credo inoltre che la shake out run sia davvero un test abbastanza importante per chi avesse qualche problema fisico il giorno prima o due giorni prima potreste verificare se il vostro corpo vi consente di gestire una corsa abbastanza easy e semplice se nemmeno in una condizione di quel tipo riuscite a correre senza avere problemi ovviamente abbandonati ci sono però tre cose che decido di fare nel momento stesso in cui mi riprendo da questo infortunio sicuramente ritornerò in palestra perché esercizi di forza sono secondo me fondamentali a casa ovviamente in corpo libero potrebbe essere una soluzione ma per me che faccio davvero tantissimi chilometri potrebbe essere un vantaggio competitivo rispetto a qualcuno che non li fa questi chilometri avevo smesso di andare in palestra dopo il covid perché ovviamente non si poteva poi non sono per ragioni legate ai miei viaggi riuscito a riprendere adesso però secondo me è giunto il momento in alternativa è fondamentale fare o esercizi a corpo libero oppure soprattutto dello stretching e magari delle corse in salita anche questi le riprenderò a fare nelle prossime settimane però ora è fondamentale davvero riprendersi tra l'altro sarebbe energetico se vi iscrivete al canale per non perdere ulteriori recensioni in tutto quello che gira intorno al mondo della corsa nei prossimi giorni saranno davvero copiati per ridurre l'infiammazione a casa cerco di utilizzare soprattutto complex che con i suoi diversi programmi mi consente di gestire al meglio questi problemi però quando il problema è davvero sostanziale è forse nemmeno quello è sufficiente in questo caso la cosa fondamentale è riposare in maniera precisa ma senza evitare di fare cross training ho già raccontato poi che l'importanza del cross training serve soprattutto per riprendere più velocemente e evitare che il vo2 max peggiori in maniera più significativa rispetto in quello che succederebbe se invece il cross training non venisse fatto secondo me andare in bici sui rulli se non vi rompe le scatole potrebbe essere una soluzione vincente e questa cosa cercherò di farla nei prossimi giorni mi è stato poi pure chiesto che secondo voi cambiando continuamente le scarpe mi infortuno più facilmente in realtà comunque per nove mesi di fila corso tutti i giorni anche doppiando facendo oltre 150 160 chilometri a settimana poi dipende ovviamente dal periodo secondo me cambiare le scarpe non è necessariamente un problema invece credo che il problema sia soprattutto legato al volume e l'infortunio è sempre dietro l'angolo la cosa importante è appunto fare stretching fare allenamenti di stretching attivo isolato se riuscite a farli e assolutamente esercizi di forza a livello di scarpa con il carbonio anche in questo caso potrebbe crearvi dei problemi strutturali ma se lo utilizzate uno due volte a settimana questa cosa non ha secondo me nessun impatto ovvio però se aumentate il chilometraggio in maniera significativa cosa che non è successa al sottoscritto potreste effettivamente avere qualche problema in più rispetto al podistamatore che corre in maniera costante cosa farò di diverso nei prossimi giorni non soltanto a livello podistico ma anche e soprattutto di recensioni sicuramente cercherò di recuperare tutte le recensioni perse nelle settimane nei mesi scorsi dove ho focalizzato la mia attenzione soltanto sui reel più brevi che comunque mi hanno portato una maggiore visibilità credo a livello di podismo amatoriale devo però assolutamente recensire scarpe come l'adidas prima che secondo me potrebbe essere una soluzione ideale per il podista amatore soprattutto post recupero la utilizzerò in maniera piacevole e soprattutto scrivetemi qua sotto quali video vorreste vedere nei prossimi mesi nelle prossime settimane perché cercherò di accontentarvi soprattutto pensando che la nostra community sta crescendo in maniera esponenziale vi ringrazio davvero tantissimo a Berlino ho visto l'affetto di davvero tantissime persone che ho incontrato all'expo ma anche sui pullman e sul tram della città stessa chiaramente sono stato l'unico italiano purtroppo di top4running che ha partecipato a questo evento mi dispiace tantissimo non poter gareggiare con loro che comunque sono davvero un'azienda molto interessante cresciuta tantissimo e che pensano di sviluppare anche in Italia il loro business quindi ovviamente li ringrazio per questa partecipazione la scelta che ho preso è davvero a malincuore quando mi hanno passato il pettorale sapendo che partivo davanti mi è davvero dispiaciuto tantissimo però la mente è sicuramente superiore al corpo poi nel frattempo stay strong e keep running ci vediamo alla prossima nei prossimi giorni comunque ulteriori video ulteriori recensioni ciao alla prossima